Se hai intenzione di controllare così i led della tua scheda grafica, la velocità delle ventole e fare anche un overclocking sulla tua scheda video è possibile farlo grazie anche al programma Gigabyte Control Center, il programma GCC. Scarichiamo e installiamo così il programma, è veramente un programma comodissimo, facilissimo da usare, quindi andiamo così a scaricarlo, come puoi vedere può sopportare così le schede grafiche di serie 20, 30 e 40, Nvidia GeForce 1660 Super e poi abbiamo l'MD Radeon, Intel e qua sotto tutto il supporto delle schede matri. Quindi vai su Download, scarichi così il pacchetto ed eccolo qua, un pacchetto bello grande di 845 MB, dobbiamo estrarre così questo pacchetto con WinRAR, il programma WinRAR lo puoi estrarre con FileZip, eccolo qua, ci clicchiamo dentro ed eccolo qua, tu devi scaricare, quindi devi installare questa applicazione, poi una volta installata la puoi avviare senza nessun problema, quindi clicca qua sopra, avvia il programma ed eccolo qua, questa è la nostra scheda grafica RGB Fusion e Fan Control, per controllare così la velocità delle ventole, per farti anche vedere che adesso la ventola non sta facendo giri, quindi adesso sta girando, zero giri, quindi RGB Fusion, questo qua invece per controllare i LED della scheda video, se hai una scheda video con i colori delle ventole, io ho solamente la scritta Gigabyte, tanto per farti vedere, eccola qua, quindi come puoi vedere posso modificare e mettere così, regolare il colore, per esempio arancione, ciclo, flash, pulso, come puoi vedere posso controllare il colore, anche una bella sfumatura sul Gigabyte, sempre grazie al programma Gigabyte Control Center, questo qua invece per controllare i colori delle ventole o della scritta Gigabyte sulla scheda video, invece su Fan Control possiamo qua controllare la velocità delle ventole, quindi come puoi vedere se la temperatura arriva sui 48-49 gradi non gira non girano le ventole, se invece voglio applicarlo qua come puoi vedere se faccio applica ed ecco che le ventole cominciano a girare, quindi stessa cosa anche qua a 59 gradi, io posso regolare la temperatura e la velocità delle ventole, 60 gradi, 1366 RPM, quindi più di 1300 giri al minuto, 73 gradi, lo posso aumentare e regolare, questo lo tengo giù e faccio applica, invece qua su Performance, questo qua invece è l'Overclocking della scheda video, Boost Clock Megahertz, io ci ho aggiunto 10 in più, più aumenti, più anche aumenta la velocità, quindi Megahertz sulle VRAM della scheda, quindi ti consiglio proprio di guardarti una guida a parte su come fare un overclocking sulla tua scheda video personale, quindi non guardare quello che ho fatto io, quindi lascia stare questa parte delle performance, quindi questo qua puoi guardare un'altra guida. Quindi il programma Gigabyte Control Center è veramente un programma comodissimo, utilissimo, facile anche da usare, se hai anche altri dispositivi collegati al computer, puoi controllarli, configurarli e fare quello che vuoi, io ho solamente la scheda video Gigabyte, quindi grazie a tutti per questa visione, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!